Siamo partiti con un'infarinatura generale di quella che è la lezione di BalloCountry Adesso chiediamo a Tiziana se ci accompagna durante lo svolgimento Quanto dura una lezione? Un'ora Ecco, ci fai vedere quali sono le varie tappe? I ragazzi iniziano con una fase di scaldamento come questa Poi di solito c'è la spiegazione di un ballo nuovo Che viene spiegato sia come coreografia, come passi, sia come stile, postura Utilizzo anche delle braccia, il tocco del cappello Perché questo è tutto ciò che poi fa stile e fa la differenza E poi alla fine lo ballano fino alla fine della lezione per poterlo imprimere bene Ecco, vediamo Tiziana all'opera Vediamo che cosa riesce a combinare durante un'ora di lezione Tiziana, che sta succedendo? I ragazzi stanno facendo un ballo a coppia, come vedi, perché il BalloCountry non è solamente il ballo in linea È anche il ballo di coppia Questa è una tipologia di ballo a coppia che si usa molto nelle serate per divertirsi Quindi è un social, un modo per stare insieme Infatti sono dei balli di coppia dove sono gli scambi La coppia parte tizio A e tizio B e poi alla fine si trova a ballare con tutti i suoi compagni Ha appena detto scambi di coppia, ma non è come pensate voi, assolutamente no Tiziana, qui si vede un ballo particolarmente diverso rispetto a quelli che abbiamo visto fino ad ora Sì, siamo sempre sui balli a coppia e questo è un two-step Sono bellissimi i balli di coppia che si portano anche in competizione E noi qua stiamo iniziando proprio un nuovo corso di ballo a coppia, two-step Tra l'altro in collaborazione con Gianluca e Laura che sono i campioni italiani di two-step Già da qualche anno, sono i ragazzi che stanno ballando lì Faremo questo corso di ballo e cercando di portare anche diverse coppie in competizione Noi sai che facciamo? Andiamo a disturbare proprio i campioni italiani Vediamo un po' di rompergli le scatole durante il ballo Fermatevi, fermi tutti, fermi tutti Ciao ragazzi, anzi mi metto in mezzo, mi metto in mezzo Come ti chiami? Gianluca Come ti chiami? Laura Campioni italiani Esatto Quanto affiatamento ci vuole intanto per fare le cose bene e poi addirittura per arrivare ai vertici nazionali? Beh noi abbiamo diciamo un affiatamento particolare perché siamo anche fidanzati Per cui il nostro affiatamento è speciale Però diciamo che ci vuole soltanto passione, buona volontà e senso della musica E soprattutto tanta voglia di divertirsi Ma vi siete fidanzati prima o dopo aver cominciato a ballare? Prima? E beh dopo però ballando Si è consolidato tutto Va bene, continuate la vostra danza, non mi interrompo più Forse Come ti chiami? A questo punto in pista entro io Perché un vero cowboy senza lazzo non è nessuno Che It's a hard now Giant hard now Giant hard now Hat a!" black One